Pachera ha due anni, due anni passati veramente male e il risultato è che questa cagnolina è timida e insicura. Questa cagnolina però sappiamo che ha bisogno di una famiglia che rispetti i suoi tempi, rispetti i suoi spazi e le dia il tempo di fidarsi dell'uomo e di prendere sicurezza. Malgrado questo comunque cammina bene al guinzaglio, segue, obbedisce, è una brava cagnolina e si capisce già. Pachera è una dolce creatura in difesa che noi vogliamo difendere e che noi vogliamo far rinascere. Vero Pachera? Facciamo una passeggiata. Pachera! 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 Pachera!